Musica La visita di Gentiloni si è fermata a due metri dalla periferia. Contrata a Quattrograna, infatti, uno dei quartieri dove è prevista una parte del finanziamento di 18 milioni della convenzione che riguarda la riqualificazione dei quartieri, è situata di pronta la caserma dei Caschi Rossi. A cinque minuti di macchina a Bellizzi, altro quartiere interessato dagli investimenti. Una visita annunciata da giorni, un evento a cui i residenti del quartiere non avevano mai creduto. Educa porta in Arione Parco. E così hanno detto. A San Albertino porta solo in Prefettura. Sarà stato in ritardo il rigore del cerimoniale, certo che già da questa mattina presto, ancora prima, si sapesse dell'orario di arrivo del Premier, gli organizzatori del Turra avevano escluso l'ipotesi della tappa in periferia. I quartieri e le bozze di progetto per la rinascita di Bellizzi, contata a Quattrograna in Arione Parco, si è intravista solo sulle tavole custodite, nelle cartelle portate in visione del Premier, degli assessori ai lavori pubblici e a urbanistica, preziosi e a Tomassone. Disteso e sorridente, il sindaco Foti, a cui forse saltano i nervi solo quando si pongono legittime domande sui problemi della gente. Intanto, a Arione Parco, qualcuno ci rivela che si è giocato i numeri sulla mancata visita del Presidente del Consiglio nel quartiere. Vince la scommessa sugli annunci, soprattutto Mario, il fruttivendolo, che in tempi non sospetti aveva esternato la sua incredulità rispetto alla tappa del Premier nel Rione. A Arione Parco, veramente queste periferie sono accese proprio. Abbandonate? Ma abbandonate realmente, la città ispitaliera, in via Arione Parco non c'è un marciapiede. Ma poi questi prefabbricati sono diventati colabrodo. Sì, ma i prefabbricati pesanti stanno assente. I nuovi, diciamo, non hanno fatto la copertura sopra. Per me. Che mi danno 50 metri, 55 metri, mi danno a me. È meglio che questi 90 metri. Perché mi sono fabbricati pesanti. Non ci sono mai mani dopo le vicine. Ma lei ci crede alla riqualificazione di Rione Parco, visto che si parla di 18 metri? No, 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 no. E' me? Ma non ci credo proprio. Non ci credo proprio.